Buon lunedì a tutti! Ascoltiamo la buona novella dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di chi accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo, poi Gesù disse loro, domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno disse all'uomo, tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi fuori di sé dalla collera si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù, parola del Signore. La prima cosa che mi viene alla mente ascoltando questo passo del Santo Vangelo è il senso di vergogna che deve aver provato l'uomo che è stato guarito da Gesù. Essere chiamato in mezzo alla folla per mostrare il proprio difetto fisico non è una cosa affatto semplice per nessuno, ma oltre ai difetti fisici possono esserci tanti altri tipi di difetti, come quelli morali o intellettuali. Insomma, Gesù chiede a chi vuole essere guarito di non voltare la faccia da un'altra parte, di non nascondersi e di non nascondere i propri limiti. Anzi, è proprio quando le ferite vengono mostrate, accolte, che la luce può finalmente trapassarle. Questo è il metodo di Gesù. Ciò implica che non dobbiamo avere vergogna di cosa siamo, perché Dio ci ha fatti così e siamo una meraviglia anche con i nostri difetti. Ma Gesù va oltre e risponde alla domanda di cambiamento rivoltagli dallo storpio, quella della mano destra. Era incapace di fare qualsiasi cosa con quella mano, eppure il Signore non lo rissana per guarirlo, bensì per dare un esempio alla gente che si era accalcata attorno a loro. Quella ferita scompare, certo, perché scribi e farisei però si accendano di collera con Gesù, e così accade anche oggi. La gelosia per ciò che Dio fa a ciascuno di noi. Siamo gelosi se uno vive bene, se uno è felice, se uno cambia vita, se uno riesce ad arrivare a compiere i propri propositi. Impariamo in questa giornata ad apprezzare, anzi ad amare i nostri limiti e difetti, ed educhiamoci a non vivere di risentimento e di gelosia. Proponiamoci di pensare a un nostro difetto che vorremmo fosse risanato. Diciamo al Signore che lo accogliamo come un dono, e non più e semplicemente come un male. Per il resto preghiamo per non cadere nella tentazione della gelosia, sperando che questo video ti sia piaciuto, ti do appuntamento domani. Se vuoi condividilo e lascia un commento, mentre ti do appuntamento con una nuova buona novella. A presto e ciao! Ciao!